È Hugh Grant, il nuovo paladino della privacy, che guida la schiera dei VIP spiati e perseguitati dalla stampa scandalistica inglese. I tabloid sono tossici, si è sfogato l'attore inglese davanti alla commissione d'inchiesta che lo ha ascoltato a Londra in qualità di vittima nello scandalo delle intercettazioni illegali. Uscivano articoli contro di me che non si spiegavano se non con il fatto che fossi spiato. Telefoni e SMS intercettati, microspie negli appartamenti, una ragnatela di informatori tra poliziotti, medici, infermieri, tutti pagati dai tabloid per avere informazioni nella corsa allo scoop. Certo, il protagonista di Notting Hill e di Quattro Matrimoni a un funerale, uno stinco di santo non è mai stato. Ma dal 1995, quando fu arrestato insieme a una prostituta a Los Angeles, per 17 anni i tabloid non lo hanno più mollato. E il peggio per la privacy dei VIP deve ancora arrivare. Alcuni mesi fa, il calciatore del Manchester United, Ryan Giggs, era riuscito a nascondere una relazione extracognugale grazie all'ingiunzione dell'Alta Corte di Londra, per evitare che la stampa pubblicasse il suo nome. Ma quando Twitter lo aveva smascherato, tutti avevano difeso i social network nel nome della libertà della rete. Allora sì, la battaglia per la privacy rischierebbe di diventare troppo grande.